Credo che la cooperazione internazionale tra Nigeria e Italia sia una grande priorità, fondamentale. Questo è un grandissimo paese, pieno di risorse, pieno di talento. Dobbiamo tutti insieme sforzarci per assecondare la leadership del Presidente Buhari nella lotta al terrorismo, nella lotta alla corruzione e contemporaneamente assicurare il massimo impegno dell'Italia. Per troppo tempo l'Italia ha dimenticato l'Africa, non l'ha considerata una priorità. Da questo punto di vista le cose sono cambiate e noi pensiamo che tutti insieme potremo costruire un mondo all'altezza dei sogni dei nostri figli, non dimenticando ciò che accade anche in questo paese, le ragazze che Boko Haram ha rapito due anni fa, ma non dimenticando soprattutto che ciascuno di noi deve fare tutto il possibile per rendere più umano questo pianeta.